Ciao a tutti amici Io sono Dani E io sono Robby E oggi lei perderà totalmente tutte quante le sfide che faremo Non è vero, io sono la più forte E oggi faremo le Olimpiedi in piscina No no Dani, fermo i dati, la più forte in cosa? Beh, nella gara di nuoto Sono più muscoloso io, sono più veloce No 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 E tu? E tu non hai speranza Robby, lasciami Ragazzi mi raccomando, iscrivetevi al canale E consigliateci altre sfide da fuori qui in piscina Per queste Olimpiedi abbiamo un arbitro slash bagnino slash amicone Che ci terrà d'occhio tutto il tempo Sto parlando di Matti Oggi non si può barare, vi avviso Hai capito Dani, non si può barare Ma io avevo già pensato di barare per vincere Uff, e va bene, non barerò Prima sfida Tuffo in ciambella Robby, io sono sicura che tu non ci entrerai qui dentro Allora Dani, dobbiamo lanciarci la ciambella E dopo tuffarci ed entrare dentro il buco della ciambella D'accordo, anche se ho un po' di paura Però ci proveremo, va bene Robby Dani, un po' di paura Guarda, io letteralmente non passo in mezzo alla ciambella Ma come faccio a vincere questa prova? Beh, allora vuol dire che vincerò sicuramente Vai, inizio io Ok Ma devo tuffarmi velocemente? Deve essere bello Ok, va bene Mi raccomando ragazzi, scrivete nei commenti che io sarò la più brava Vai Vado eh Vado Signor giudice, dia un voto a questo tuffo 10, 10 Tuffo fallito Voto 5 Oh cavolacci, si è pure alzato il vento Adesso sarà ancora più difficile riuscirci Ok, ci vuole concentrazione Ma devo superare il 5 Ok, vado Vai Robby Non ci posso credere Cioè, grazie alla tua spinta perché volevi imparare sono riuscito a entrare dentro No, io davvero... Non ho parole, non ho parole, basta Giudice, che voto ho preso? Tuffo di Robby, voto 10 Perfetto La prima sfida la metto io E vai Seconda sfida Gara di velocità con il cibo Dobbiamo arrivare dall'altra parte della piscina assieme ai nostri gonfiabili con il cibo Dani ha il gonfiabile ad hamburger Invece Robby ha il gonfiabile a forma di pizza E voi ragazzi, tra l'hamburger e la pizza, cosa preferite? Il primo che arriva perde Ah no, no, volevo dire vince Vince il primo che arriva Sì, ho dimenticato il regolamento Sei pronta Doni? Prontissima Questa volta lo perderò Vai 3, 2, 1 Via La mozzarella di treno Sono in vantaggio Mettilo in turbo Vai pizza Vai pizza Devo vincere Ci sono quasi Ci sono quasi E l'hamburger vince Ehi, ma la mia pizza non è aerodinamica A me non interessa Questa volta siamo pari Uno ad uno Mamma mia La mozzarella era troppo filante Terzo Sfida Centra il cactus Avete degli anelli che dovrete tirare proprio in questo modo Vedete? Io ovviamente sono un campione Oltre a essere un arbitro Ma chi di voi riuscirà a centrarlo più volte? Un momento, arbitro C'è qualcosa che non va Perché i miei sono a cerchio E invece i suoi sono a cuoricino? Beh, perché io sono la più romantica Vero, arbitro? I suoi sono più belli Ma perché, perché te i più belli? Arbitro, non è che mi nascondi qualcosa con Dani? E' espulso dalla competizione Ma cosa ho detto? Mi spiace, Robby Le regole sono le regole E lui ha deciso così Quindi inizierò io Vai, 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 inizia Bisogna centrarlo così Ok, è perfetto Direi che posso andare Mi spiace Questa è la volta buona Che ci riesco Dani, ti manca solamente un ultimo cecchietto O forse dovrei dire cuoricino, vabbè Uffa, se non c'entro questo sarò a zero Quindi cuoricino Credi in me, per favore Vai, cuore Non ci posso credere L'ho fatto, l'ho fatto Un punto per Dani È il momento di Robby Non hai speranze, Robby Contro la campionessa Ciao In realtà Dani Non sa che sono un vero maestro Di questo gioco Non ha speranze contro di me State a vedere Lancia ad occhi chiusi 3,60 Lancia ad occhi chiusi 3,60 Da sott'acqua E infine Per tutti quelli che più adorano i miei tiri Lo farò da lontanissimo Mi spiace per te Dani Sono troppo un campione Sì, certo Voglio proprio vedere 3,2,1 Squalificato Giudice Matti Mi ha beccato Avevamo detto Che non si barava Tu non mantieni la parola Quindi Come sempre Ho vinto io La campionessa Dani No, no Dani Mi spiace Mi spiace Mi spiace In realtà siamo solamente 2,1 La giornata è ancora molto lunga Guardami negli occhi Mi sto guardando Guardami più intensamente Così va bene? Esatto Vincero io Vedremo Quarta Sfida Gara di apnea Io sono un pesciolino nato Guardate Assomiglia a un pesce Quindi durerò tantissimo Ma sai di che pesce sei Se è un pesce spada La pinna ce l'hanno dietro Da un cuore cosa sei Allora sono così Sono un pesce di una spada Ma sei tutta scema Ok Allora Adesso andremo sott'acqua E chi esisterà di meno Perderà questa sfida Sei pronta? Prontissima Aspetta Roby Aspetta Roby Devi aspettare Ci deve dare via l'arbitro Ho soffritto troppo Ora mi gira la testa Non so più se posso gareggiare Via Dai Scegli Scegli Ho vinto Secondo me Stavi sopra l'acqua Ti ho vista Arbitro Lei che cosa dice? Secondo posto Roby Primo posto Dani Vincitrice Ti ho vista Che stavi sopra l'acqua E ho anche sentito Dani Roby Che dicevi Roby Roby Tu sogni Secondo me Sott'acqua Ci sono le sirene Che parlano con te E ti hanno detto delle cose Che non sono vere Sicuramente sono sirene Meno barone di te No A questo punto Roby interessa E mi ho due a due Andiamo alla quinta sfida No Roby Non sei tu a decidere Tu sei un concorrente E l'arbitro a decidere Signor arbitro Matti Io lo so Che lei Di solito Non fa queste cose Ma secondo me Dani Ha realmente barato E quindi magari Questo Potrebbe aiutarla Ricordarsi Che Dani Ha barato E quindi Squalificarla Mi scusi Concorrente Roby Ma lei Mi sta Corrompendo No 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 Questo è un dispositivo Blaster Che le consente Di ricordare meglio Le cose Ok Torni al suo posto Via Via Ciao Signor arbitro E dunque Chi ha vinto Questa sfida Ho controllato Il replay E quindi Ho vinto io Vero No Il vincitore È Roby Ma non ci posso credere Va bene Ok Allora vincerò la prossima Non vi deluderò Quinta sfida Gara Di canestro Acquatico Il primo Che segna Onestamente Un canestro Acquatico Vince questa sfida Inizio io Inizio io Vieni Vai Inizia Mi raccomando Roby Non muovere il canestro No quindi non posso fare così No assolutamente no È anche così Arbitro le dica qualcosa Al prossimo movimento È squalificato Ci sono Ci sono Sì Ho vinto No Se lo faccio anche io Non vale Ok va bene È il turno di Roby Signor arbitro Siamo come il basket Vale qualsiasi tipologia di colpo Sì Qualsiasi colpo del basket È valido Guarda qui Guarda impara le doti atletiche di Roby Tre Due Uno Roby Mi hai scherzata tutta Non l'ho visto Ho fatto canestro Vero Sì Canestro Ok Quindi adesso Siamo uno pari Chi fa questo Vince Però il canestro Sarà in acqua E galleggerà Da solo D'accordo Ci sono Uno Due Tre Uffa Tocca a me Uno Due Tre No Non ci credo Questa sfida Dani è troppo difficile Ragazzi scrivete voi Una sfida qui sotto nei commenti Per Decretare il vincitore di queste Olimpiadi 2021 E pescina E pescina E pescina E pescina Sì Quindi ragazzi Noi ci vediamo domani In un prossimo video Ciao